No, no, no! Il raddoppio no! No, no, no! Il raddoppio no! Madia, anche lei è qui oggi per dire no a raddoppio dell'aeroporto? Assolutamente sì, questa è una questione che dura anche ormai da troppo tempo. Ho depositato diverse interrogazioni in questa legislatura e credo che il prossimo governo dovrà dire un no netto a quest'ampliamento che non ha ragioni economiche e che semplicemente servirebbe a distruggere un polmone verde, un'area che sarebbe un peccato mortale distruggere. Le interrogazioni che lei ha depositato hanno avuto una risposta? Alcune sì, ne ho depositate tre su questo tema. Le prime due sì e il governo diceva appunto che questo progetto stava andando avanti. L'ultima, quella sull'abbattimento degli alberi a Santa Ninfa, non ha ancora avuto risposta, però davvero io credo che serva un cambio di amministrazione per iniziare a dire un no secco e definitiva a una vicenda che ormai dura da troppo tempo e che invece ha bisogno proprio di essere arrestata.